Questo concerto si chiama Dietro il mare, perché sempre quando attraversiamo l'oceano ci incontriamo con cose nuove. Io ho avuto la fortuna di trovare i miei musicisti, Claudio Ricci, Germano, Giampaolo Scatozza, e noi fondamentalmente ci divertiamo. Cominciaremo con questo pezzo che si chiama Qualcuno che cammina. Tutti questi sono pezzi originali arreggiati da noi, quindi è una piccola mostra del nostro progetto. Alguien in la esquina, alguien che camina, alguien che non sape a dónde va. Alguien in la sera, alguien che non spera, un altro che a qui ognuno Allà dormire, qualcuno sognò, qualcuno che voleva rispettare E non sentire, non sentire, non sentire, non sentire E non sentire, non sentire, non sentire E non sentire, non sentire, non sentire, non sentire